Stabili tutti gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, se non si sblocca la burocrazia, non si aumenta il PIL e di conseguenza non ci sarà la possibilità, non ci sarà il volano di ritorno per riuscire a disincagliare tutti questi crediti talvolta inesigibili. Noi vediamo un'Europa che è attonita, oggi l'abbiamo già ricordato, non è a mio avviso attonita solo da un punto di vista della sicurezza e attonita soprattutto da un punto di vista economico, da un punto di vista di mancate riprese e soprattutto non ha in sé la possibilità di avere una vera spina dorsale politica economica unitaria proprio perché l'Europa così com'è non esiste. Grazie, è scritto a parlare il deputato Rondini, prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Beh, innanzitutto noi vogliamo sottolineare che la scelta del decreto a noi non sembra quella adeguata per operare una riforma di questa portata. Probabilmente si sarebbe dovuto battere la strada del normale iter legislativo anche perché in questa maniera è stata negata la possibilità di un vero e proprio confronto per divenire eventualmente a una riforma in questo ambito. D'altro canto lo stesso copione l'avete già recitato quando avete messo mano alla riforma delle banche popolari. Il decreto poi in oggetto secondo noi sconvolge l'attuale panorama del settore cooperativo, ridisegnando un sistema formato da piccole realtà territoriali con la creazione di un'unica holding, che oltre a far perdere il carattere di mutualità e cooperazione, non riesce nemmeno a replicare modelli presenti in altre nazioni, come faceva notare anche il collega che mi ha preceduto. In altre nazioni europee, per evidenti disparità dimensionali, gruppi olandesi, francesi e tedeschi, costituiti in holding di banche di credito cooperativo, sono 50, 60, 100 volte più grandi della dimensione ipotizzata per il costituendo gruppo bancario cooperativo italiano. Rischiamo di generare qualcosa di non ben definito, che perde le caratteristiche specifiche, che fa perdere le caratteristiche specifiche della cooperazione nel settore creditizio, tese invece a valorizzare le specificità locali, culturali, socio-economiche dei diversi territori italiani. Nel contempo non è in grado di paraconarsi ad omologhi gruppi con cui confrontarsi nel mercato creditizio mondiale. Andate poi a prevedere l'obbligatorietà di appartenenza a un gruppo bancario cooperativo, la cui capogruppo si costituisca in forma di società cooperazione al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali e alla patrimonializzazione. Nella stessa relazione che accompagna il vostro provvedimento si attesta che una simile ristrutturazione non altererebbe in alcun modo la qualificazione delle banche di credito cooperativo in qualità di cooperative a mutualità prevalente. Non si può certo negare che una simile impostazione provenga e discenda dalle tesi ormai maggioritarie sviluppate dalla Banca d'Italia in merito alla convinzione piuttosto infondata che sia impossibile poter vigilare correttamente su piccole entità bancarie. Su questo è intervenuto Carmelo Barbagallo, capo del Dipartimento della Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia in sede di audizione in Commissione e ha espresso una posizione nettamente favorevole ad operazioni di concentrazione, soprattutto per le banche di medie e piccole dimensioni. La tesi è poi stata ulteriormente ribadita, confermata in sede di audizione sul decreto in oggetto il primo di marzo del 2016. E sempre il Capo della Vigilanza ripeteva ancora una volta in audizione che nella prolungata fase di crisi economica l'aumento della rischiosità e la stasi delle erogazioni hanno eroso i profitti rendendo più vulnerabili le banche di credito cooperativo, caratterizzate da dimensioni contenute e da un'operatività concentrata in ambiti territoriali ristretti che si ripercuote sulle possibilità di diversificazione del rischio. Ecco, quasi a voler sottolineare che è la dimensione di questi particolari istituti di credito il vero problema. È vero, invece, noi riteniamo semmai il contrario. Queste piccole banche hanno indici di solidità ben superiori ai grandi gruppi. Esse rappresentano un vitale elemento di democrazia economica, nonché un validissimo esempio di totale separazione dalle attività speculative e per questo costituiscono la parte più sana del nostro sistema creditizio che eroga circa un quarto dell'intero credito a imprese e famiglie, cose che magari i grandi istituti non fanno. È giusto e sarebbe tempo, come sottolineavano diversi rappresentanti di quel mondo che voi oggi volete sacrificare, è tempo che il mondo dell'informazione e l'opinione pubblica mettano sotto i riflettori anche le grandi banche d'affari, il loro rapporto talora incestuoso con le agenzie di rating che le rende in grado di speculare sui debiti sovrani determinando la perdita di molti posti di lavoro e i tagli al welfare che fanno salire vertiginosamente al numero dei poveri in ogni parte d'Europa. Ecco, cosa che invece non riguarda sicuramente le banche di credito cooperativo, che invece sono un valore per i territori, sicuramente un valore per i territori che voi con questo decreto sacrificate sull'altare di non ben definiti interessi. Questa tesi, cioè il fatto che le banche di credito cooperativo per le piccole dimensioni siano un problema, seppur suggestiva forse in qualche salotto, non trova alcun riscontro nella realtà, apparendo pertanto completamente strumentale al raggiungimento di fini non dichiarati. Al contrario, le drammatiche vicende vissute dalle banche popolari venete, con le gravi ricadute sui risparmiatori e sull'intera economia di una delle regioni trainanti per l'intero Paese, dimostrano che la dimensione è tutt'altro che un requisito utile ad agevolare il controllo da parte degli enti perposti. Proprio nei confronti di queste, che erano nel novero dei cinque maggiori istituti di credito del Paese, Banca d'Italia e Consoba hanno evidenziato gravi carenze, se non connivenze, nell'adempiere al loro ruolo istituzionale di vigilanza e tutela. Non risulta pertanto alcuna evidenza empirica secondo la quale istituti di maggiori dimensioni, e lo ripetiamo, siano più facilmente controllabili e più stabili, tanto meno, ed eventualmente è vero il contrario, tanto meno che le sofferenze dei piccoli istituti mettano in pericolo la stabilità dell'intero sistema bancario del Paese. In Italia le banche più piccole hanno 17 miliardi di euro di sofferenza, a fronte dei 39 delle banche più grandi e dei 133 miliardi delle prime cinque banche, con un credito erogato che per le banche di medie e piccole dimensioni si attesta tra i 156 e i 178 miliardi di euro. E ancora, e di più, non si comprendono a fondo le ragioni di una simile riforma quando anche la Banca d'Italia ha confermato la gestione più prudenziale delle banche di minore dimensione, in prevalenza di credito cooperativo, anche per effetto del peso più elevato delle garanzie sui prestiti. Sembra essere scontato, dunque, che tutta questa riforma sia interessata da una deliberata eterogenesi dei fini, dove gli obiettivi sono differenti da quelli ufficialmente dichiarati e debolmente giustificati da tesi evidentemente strumentali. Si abbandonano i principi di mutualità per far spazio alle ragioni del libero mercato, agevolando l'entrata anche nelle banche del credito cooperativo, così come è stato fatto nelle popolari, di investitori nazionali e non ben poco interessati allo sviluppo e al sostegno del territorio al tessuto delle piccole e medie imprese, fondamentale per l'economia del nostro Paese e strategico con riguardo alla nostra capacità di competere in ambito internazionale. Passando poi a analizzare le misure del provvedimento, non ci trovo assolutamente d'accordo la scelta del limite minimo di un miliardo di patrimonio netto per la capogruppo, perché questo annulla la valenza territoriale del sistema mutualistico, postulando necessariamente la creazione di un'unica grande holding nazionale, governata in modo verticistico. Sarebbe stato forse necessario abbassare almeno il suddetto limite, almeno alla metà, e dare la possibilità di costituire più holding con un patrimonio netto di 500 milioni di euro che rispecchino la differenziazione territoriale, che è il caposaldo necessario della mutualità. La seconda grande incongruenza di questa riforma attiene alla clausola del why-out. Si prevede infatti che soltanto gli istituti con un patrimonio netto superiore a 200 milioni possano, corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al 20% dello stesso, scorporare l'attività bancaria conferendole ad un istituto di credito costituito in società per azioni. Quindi, da un lato, il Governo e questa maggioranza ritengono la soglia del miliardo di euro come minima per poter operare come gruppo bancario cooperativo in forma di SPA nel mercato del credito. E dall'altro, contraddicendosi, valutano congruo un capitale netto inferiore a 200 milioni per poter operare nella stessa forma e nello stesso mercato, in piena sicurezza in riferimento ai valori patrimoniali. Risulta fin troppo evidente che questo limite dei 200 milioni sia stato determinato in assenza di qualsiasi valutazione razionale che considerasse caratteristiche del settore, del mercato e degli indici di solidità patrimoniale. E del resto, nessuna spiegazione ci è mai stata fornita dal Governo e dalla maggioranza in questo senso. La soglia dei 200 milioni è stata determinata in modo del tutto arbitrario, in funzione della cosiddetta, in funzione della consistenza delle banche di credito cooperativo toscane, vicine, molto vicine all'attuale Primo Ministro e ad altri membri del suo Governo, insieme ai esponenti della nuova maggioranza che si volevano salvaguardare, assolvendole dall'obbligo di aderire al gruppo bancario cooperativo. In questo modo non solo si contraviene al principio di uguaglianza sancito dal dettato costituzionale, ma si indebolisce la portata della riforma, contraddicendone i presupposti e le finalità, perché il costituendo gruppo bancario cooperativo risulterà evidentemente indebolito dalla mancata partecipazione delle banche del credito cooperativo di maggiori dimensioni. A giugno del 2015, infatti, le BCC con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro erano 14 e rappresentavano circa il 21% degli attivi della categoria, mentre quelle con patrimonio netto compreso tra i 100 e i 200 milioni erano 28 e rappresentavano il 18% degli attivi. Stante dunque la vaghezza e l'ambiguità generale del provvedimento in esame, è previsto invece in maniera chiara ed esplicita che in caso di esclusione dalla superholding la BCC possa continuare la sua attività solo con l'autorizzazione di Banca Italia e la trasformazione in SPA, pena la liquidazione, ma è escluso, come invece è stato fino ad oggi, la fusione con banche di diversa natura da cui risultino banche popolari. La disposizione, molto criticabile, è stata infatti attaccata da più fonti perché inficerebbe gravemente la tutela dei depositari. Non a caso la deroga all'intrasformabilità delle BCC, prevista fino ad oggi, non è stata mai modificata e la motivazione risiede non soltanto in ragione di stabilità, ma anche nella necessità di tutelare l'interesse dei creditori in situazioni di difficoltà. Noi abbiamo provato attraverso una serie di emendamenti a dare il nostro contributo. Una serie di emendamenti orientato alla soluzione delle gravi contraddizioni che caratterizzano questo decreto. Ma è evidente che il Governo ha deciso di battere un'altra strada, è evidente che il Governo in questa, come in tante altre occasioni, si dimostra sprezzante dell'opposizione e della possibilità di concordare a seguito di un confronto sereno, soprattutto in una materia così delicata, negando quindi il confronto e decide di andare avanti per una strada che non solo noi come Eleganor, non solo le opposizioni criticano, ma è criticato anche dai vertici, dai maggiori rappresentanti di quel mondo che oggi con questo decreto andate fortemente a penalizzare. Grazie. Grazie, onorevole Rondini. È scritto a parlare il deputato Borghesi. Pregone a facoltà. Grazie, Presidente. L'oggetto principale di questo disegno di legge di conversione del decreto legge numero 18 del 2016 è appunto una riforma organica del sistema delle banche del credito cooperativo, accanto alle non meno importanti disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti deteriorati e di disposizioni fiscali in merito alle procedure di risoluzione. Innanzitutto noi vorremmo porre l'accento sul fatto che per una riforma così complicata in un sistema così complesso la scelta che è stata fatta da parte del Governo di procedere tramite decreto non è assolutamente condivisibile, in quanto stravolgere un sistema di una tale portata con un decreto senza una discussione che sia degna di questo nome non è assolutamente sintomo di democraticità.